Ben ritrovati con lo spazio informativo di Caffè TV 24, le notizie da Venezia e provincia. La Guardia di Finanza del secondo nucleo operativo metropolitano di Venezia ha scoperto una truffa ideata da un uomo residente a Bolzano e da un altro di origine romena residente a Padova. L'indagine è partita grazie alla denuncia di un veneziano depositato al comando della Guardia di Finanza di Mestre. L'uomo aveva acquistato dai due un cucciolo di razza Yorkshire, morto però poco dopo la sua adozione. I due truffatori pubblicizzavano i cani con degli annunci su un portale online, precisando che erano tutti dotati di microchip, sottoposti anche a profilassi con tanto di visite veterinarie. La verifica dei finanzieri ha invece fatto emergere un quadro ben diverso. Durante la perquisizione a casa del Romeno i militari hanno rinvenuto, tenuti in una sedicente baracca, una decina di cuccioli tra i 45 e gli 80 giorni di vita, senza alcuna documentazione. Si tratta appunto di Yorkshire, di Barboninani, bulldog francesi e maltesi pronti per essere venduti a 500 euro l'uno e tenuti in condizioni igieniche inadeguate. I due uomini sono stati così denunciati per truffa e per maltrattamenti. Passiamo a Venezia, una comunicazione per chi utilizza i vaporetti. Da oggi fino a domenica 3 novembre, quando entrerà di nuovo in vigore l'orario invernale, tutte le corse delle linee 4.1 e 4.2, previste tra le ore 7 e le ore 20, si fermeranno anche ai tre archi. Una fermata in più che modifica l'orario di transito e la durata dei tragitti. ACTV ha anche rinforzato le corse che collegano Venezia con le spiagge, quindi le linee 5.1, 5.2 e 6. E adesso invece parliamo delle assegnazioni degli appartamenti, dell'Ater e del Comune. Le graduatorie definitive dei bandi di concorso per i 57 alloggi comunali sono uscite la scorsa settimana. Gli alloggi sono tutti stati recentemente ristrutturati o realizzati anche ex nove, si trovano a Venezia, centro storico e poi nelle isole. Verranno assegnati in regime di social housing per le giovani coppie e per i giovanissimi. Per questi nuclei familiari il Comune ha messo a disposizione 28 appartamenti, gli altri rimanenti 29 invece sono destinate alle famiglie che hanno un reddito medio-basso. Nei primi giorni di settembre poi sarà anche pubblicato il bando speciale per l'assignazione dei nuovissimi appartamenti di Murano. A ruota poi altri due bandi su Venezia e Marghera un ulteriore bando, social housing per la terraferma. Ernie Geller, l'85enne americano ideatore delle mostre Real Buddies, è morto ad Atlanta negli Stati Uniti. Le sue ceneri, come da sue ultime volontà, saranno sparse in città a Venezia e ancora l'uomo aveva richiesto di realizzare sempre a Venezia una mostra di anatomia umana permanente. Il magnate aveva venduto oltre 60 milioni di biglietti con le mostre Real Buddies nel mondo, giunta anche a Jesolo e qui aveva raggiunto 250.000 visitatori. Venerdì scorso al centro Manin di Cassavio si è inaugurata la mostra intitolata Vivere d'acqua, archeologie tra Leo Piccolo e Altino. Gli oggetti esposti, visibili per la prima volta al pubblico, sono i materiali che narrano la complessità delle vicende antiche degli spazi acque intorno ad Altino. Sentiamo. Grazie a questi reperti vogliamo raccontare come la gente che viveva qui, gli antenati di Leo Piccolo e dell'area di Cavallino Treporti, vivessero sull'acqua. E quindi la rilettura di questi reperti è stata di tipo funzionale antropologico. Abbiamo comparato le saline, le peschiere dei nostri giorni con le saline e le peschiere antiche. Abbiamo visto come ad esempio gli argini strada pieni di anfore romane assomigliano esattamente a quelle strutture. E quindi abbiamo riattualizzato un paesaggio antico che in parte era uguale, in parte era diverso. E l'abbiamo proposto ai cittadini locali del comune di Cavallino Treporti per tentare di capire come si vive tra le acque, come si viveva, come si continua a vivere, ma soprattutto per capire chi questi oggetti che abbiamo messo in mostra usava. Quindi è una mostra che tenta di dare una faccia ai nostri antenati attraverso gli oggetti archeologici. Una grande opportunità culturale di crescita, ma soprattutto rafforzare l'identità culturale del nostro territorio. Le nostre origini, la nostra terra, i nostri paesaggi e i nostri antenati che vivevano d'acqua, vivevano di culture collegate alla terra, vivevano a contatto con l'ambiente, nel rispetto dei ritmi della nostra splendida laguna. Passiamo alla cronaca. Ancora borseggiatori a Venezia e ancora la polizia locale impegnata a scoprirli e a bloccarli. L'ultimo episodio ieri pomeriggio sul ponte di Rialto, intorno alle 15.30, i due borseggiatori sono stati sorpresi a rubare il portafoglio ad un 81enne turista francese. I vigili intervenuti hanno dovuto affrontarli con un corpo a corpo, una collutazione che non ha risparmiato gomitate agli agenti. Uno dei due all'inizio è anche riuscito a fuggire, ma poi è stato immobilizzato a terra. Anche il secondo ha tentato la fuga, finita però a Piazzale Roma all'interno di un autobus della linea 2. Entrambi i rapinatori sono stati portati in carcere per il reato di rapina impropria, aggravata in attesa ora di giudizio. E invece una brutta vicenda che si è compiuta ad Eraclea, nella spiaggia della località balneare, dove una coppia di Bergamo è stata derubata mentre si trovava lontano dall'ombrellone. Erano le 8 di sera, due giovani si sono avvicinati all'ombrellone e hanno rubato lo zaino. La ragazza è riuscita a chiamare i carabinieri, il ragazzo è invece riuscito a fermare uno dei due ladri, quello di 18 anni, poi identificato un kosovaro residente a Musile di Piave. Il complice, romeno di 24 anni, è stato rintracciato invece alcune ore dopo. Entrambi sono stati denunciati per furto. Ancora cronaca, una donna di 52 anni residente a Venezia, sabato pomeriggio stava effettuando una escursione in montagna a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno. L'escursionista è scivolata in zona Forcella-Giao e si è rotta un polso. Per soccorrerla è stato così necessario far alzare in volo l'elicottero del SUEM di Piave di Cadore. Poi la donna è stata trasportata all'ospedale di Belluno. E per finire lo sport con il basket e notizia in casa Reier. Il presidente Federico Casarin puntualizza due punti. Il primo riguarda il giocatore Marquez Ains, il secondo riguarda una serie di voci su B-Liga. Ains dice che Casarin ha rappresentato l'intenzione di non continuare a giocare con gli Aro Granata. Il club, ha continuato il presidente, non ha mai trattenuto un giocatore contro voglia. Poi sulle voci invece che riguardano Paul B-Liga, che avesse firmato un precontratto con la Germani-Brescia già durante il play-off, sono bugie. Così ha riferito Casarin. Infatti B-Liga ha firmato ora un contratto triennale con Milano. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi e noi ci rivediamo per l'edizione di Marcoledì. Arrivederci. Grazie. Grazie.